Thomas Di Dio, due quarti di altissimo livello per Catanzaro e poi cos'è successo? Purtroppo abbiamo avuto sempre un po' la defaianza dal rientro dagli spogliatoi e quindi abbiamo dovuto come al solito ma nel nostro DNA ormai soffrire fino all'ultimo. Un altro spauracchio supplementare però comunque alla fine l'avete portato a casa. Cosa siete riusciti ad avere in più della Luis nell'ultimo quarto? Io penso che noi abbiamo lavorato sodo soprattutto dopo domenica perché volevamo comunque rimetterci in carreggiata. Era una partita che sapevamo sarebbe stata difficile perché arrivava una delle prime della classe e abbiamo lavorato tutta la settimana per quantomeno giocarcela. Poi il primo tempo appunto ha dato i suoi frutti e nulla. Diciamo che i frutti del primo tempo ci hanno aiutato poi ad arrivare in fondo con quel margine di vantaggio per evitare l'ennesimo supplementare. E adesso ci sarà un'altra partita che sulla carta appare proibitiva per voi però ovviamente ve la giocherete fino in fondo? Sì assolutamente. Noi adesso ci godiamo questi due punti importantissimi per noi e da martedì risaremo sotto perché andremo a questo giro fuori casa da un'altra ottima squadra. Come ti senti essere il giocatore tra virgolette più anziano della squadra? Da una parte mi sento maggiormente responsabilizzato, dall'altra non ci penso più di tanto perché i miei compagni non fanno sentire questo e io tantomeno faccio sentire la mia anzianità. Siamo tutti uguali e dobbiamo lavorare assolutamente insieme, non c'è più grande e più piccolo per raggiungere i nostri obiettivi. Coach Tunno, alla fine Catanzaro riesce a conquistare una vittoria importantissima contro una squadra che sulla carta era favorita come la Luis. Però dopo quei primi due quarti in cui si è rasentata la perfezione, quanto sei soddisfatto della seconda parte del match della tua squadra? Intanto non era sulla carta, ce lo diceva la classifica che la Luis era favorita perché la Luis non ci dimentichiamo che ha perso una partita con Salerno. Ad oggi ha fatto un cammino quasi impeccabile, a dimostrazione chiaramente della qualità della squadra che abbiamo battuto oggi. Chiuso il discorso avversario, parliamo di noi, ma noi abbiamo fatto una partita vera, una partita di squadra, una partita che al di là delle andature del punteggio, sapevamo di non averla chiusa i primi due quarti perché ci aspettavamo una reazione da parte della Luis, la Luis a qualità sugli esterni, a giocatori in grado di riaprire in due minuti, in tre minuti la partita. Secondo me siamo stati premiati nelle convinzioni su come affrontare la partita. Sicuramente i primi due quarti, se si vede lo scout dei primi due quarti, noi abbiamo avuto sicuramente rispetto a loro più peso al rimbalzo e non abbiamo mai subito canestra a campo aperto, che sono le due qualità maggiori di questa squadra. Dal di là del talento che hanno i singoli giocatori, questa è una squadra che se gli dai il fianco a campo aperto ti fa male. Se concedi spazio nell'aria, Beretta è un giocatore troppo importante per questa categoria abbinato a Martone. Secondo me siamo stati bravi a fare questo e poi nel momento di difficoltà, quando loro sono rientrati, non abbiamo perso la lucidità, abbiamo continuato a lottare su ogni pallone e questo ci ha premiato.